Alette di pollo in salsa piccante, 20 alette per due persone, bruciatelo per bene, taglio e poi taglio le alette a metà, così, mettiamoci a fare la talzetta, quella buona, tipo un lotto fresco, non manca mai, voglio dire che quello è buono, peperoncini freschi o secchi, e olè, girate la salsa, il zenzero, tiè, aggiungiamo il pomodoro sammarsal, prima però schiacciolo e adesso vai, un po' di saio ce lo puoi mettere, piccante sì, ma pure un po' dolce, massa di vino in farina, un po' friggile, se sei tollerante usa la farina di riso, il friggile usa olio di arachidi o girasole, adesso son pronto, fa le scola bene dall'olio, e poi fanno diventare speciali, metteci tutta la salsa sola, del saldo club, con la letta, sprimi là in dentro, così, e poi piattiamo, almeno 20 ne devi mangiare, dai una botte di colore, con un po' di verde del cipollotto, questo si mangia qua le mani, eh? time di c quero, questa è dalla bella, e questo la metteria ciò, questo si ricana ciò, ciò la mette, faccia il впер제를 obviare il termine di media, di del таким ca musicali, invece,,